Grazie, grazie mille. Adesso facciamo un'altra vettina di brani. L'avete voluto voi. Grazie, grazie a voi, che meraviglia. E' proprio bello, guardate, quando si ha l'amore del pubblico per i musicisti è tutto. Dopo questa perla filosofica è venuto il momento di suonare qualcosa che non sia però una tarantella, come ho accennato prima al pianoforte, ma qualcosa di più gezzistico, come potrebbe essere, per l'appunto, funiculi, funicula. Oppure un brano, vi va bene se suoniamo un brano? Eh, ok, hanno deciso autonomamente di cominciare questo bellissimo brano, perché qua vogliono assolutamente andare a casa a dormire. E poi i nostri amici del pubblico non vogliono tutto ciò. Vabbè, vi studiamo questo brano, che si intitola Amishy Sweet. Vi ricordiamo che abbiamo un cilindentità! E vi soltiamo con uno dei brani incisi sul disco che si intitola Amishy Sweet. A presto! 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 Grazie. 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 Grazie.